Perché quello di cui parlerò, ecco, prego di mettere le slide, è un lavoro, non è un lavoro personale, ma è un lavoro collettivo, un lavoro di popolo, un lavoro sinodale. Un lavoro che ha avuto un passato, che adesso raccontiamo, che è un presente adesso con i lavori di gruppo e che avrà un futuro dopo. Io sono molto innamorato di questo sottotitolo perché ovviamente onoro la memoria dei nostri capisaldi, i Toniolo, gli Olivetti, però fare i convegni su Olivetti, certe volte archeologia, dire beh c'è stato un periodo bello, c'è stato un imprenditore che ha provato, ma oggi poi non è possibile. Ecco, invece noi siamo andati alla ricerca dei 10, 100, 400 Olivetti di oggi. C'è chi oggi nelle difficoltà del mondo con la globalizzazione, con quello che ci ha raccontato su evidenza Peter Tarkson, è riuscito a fare la quadra e a creare buon lavoro. E soprattutto quello che conterà, io parlerò di buone pratiche, parlerò di ricette, ma c'è una cosa che è ancora sopra, che è il processo. Il processo che abbiamo creato, che secondo me è una rivoluzione permanente di metodo. Un popolo che esce e che va a cercare sui territori le buone pratiche, gli Olivetti e i Toniolo di oggi, che ritorna e che fa diventare queste buone pratiche strumento per creare laboratori di sviluppo territoriale e che poi da queste buone pratiche, il terzo momento, crea delle proposte per il Paese. Proposte che quindi sono informate, non sono nate nel chiuso di una stanza, ma nell'incontro col territorio. Ecco. C'è un politico per dire una battuta che adesso ha preso il treno per girare l'Italia, ma insomma noi questo treno l'abbiamo preso già da qualche anno. Se riesco, ecco, oggi siamo tutti moderni San Tommaso, dobbiamo guardare i dati, almeno i non credenti, diciamo. Noi abbiamo anche altre sorgenti, altre fonti. Bene, i milioni, diceva prima Luigino, il per chi, il perché lavoriamo. Milioni di dati oggi sulla soddisfazione di vita, sulla ricchezza di senso delle persone, ci restituiscono un'unica parola, generatività, cioè la ricchezza di senso della vita dipende dalla generatività. Erickson ci diceva i quattro verbi della generatività, desiderare, far nascere, accompagnare, lasciare andare. Uno dei incontri più belli a Brescia, preparatori, abbiamo detto qual è la cosa più importante per i giovani per cercare lavoro, avere un desiderio, perché solo il desiderio motiva lo sforzo e l'impegno. La generatività quindi è la radice della soddisfazione di vita e è la vision che noi abbiamo, perché chiaramente, come dice Seneca, lo sapete, non c'è un vento propizio al marinaio che non conosce la meta. Quindi qual è la nostra vision? La nostra vision è la vision di creare una società generativa, poi la generatività si declina in tanti modi. Ed è una società generativa che quindi è fatta di persone che non sono omines economici, ma hanno una razionalità sociale fatta di cooperazione, di fiducia e che quindi sanno creare quell'uno più uno fa tre di cui ha parlato Papa Francesco ai cooperatori. Imprese che non sono solo massimizzatrici di profitto ma sono creatrici di impatto, una nuova generazione di imprenditori che hanno una grande ambizione, quella dell'impatto oltre al profitto. Ne vedo alcuni qui in sala e li conosco. Il valore, il valore che non è solo il PIL ma è lo stock dei beni spirituali, culturali e ambientali di cui una comunità può godere sul territorio. E qui arriviamo a quella che è il nostro obiettivo. Noi economisti siamo partiti dal PIL, siamo arrivati al BES, il benvivere, ma oggi arriviamo al punto di partenza della dottrina sociale della Chiesa, che è il bene comune. È la più bella definizione di benessere che ci sia. Cioè dire non creare uno Stato che ci imbocca, ma creare quelle condizioni affinché ognuno possa realizzarsi. Quindi le condizioni per la generatività. Ed è bellissimo vedere che tutto questo coincide anche con i vertici del pensiero laico, perché l'articolo 3 della Costituzione non fa che parlare di bene comune, quindi di rimozione degli ostacoli e della realizzazione della persona. Bene, questa è la vision che ci ha ispirato e che ci ha portato a realizzare il percorso dei cercatori di lavoro. Bellissima anche questa immagine che Luca Raffaele, che ringrazio, che è stato insieme a Irene e a tanti altri protagonista di questo percorso con Next. Farei partire un attimo un piccolo video che vi racconta qualcosa di cercatori di lavoro, poi io proseguo, un video solamente di un minuto. L'inclusione sociale, il recupero della dignità della persona, rappresenta il nostro senso di antimafia sociale. Imparare a vivere insieme tra persone di culture diverse è la scommessa della nostra generazione. Se non ci riusciremo il mondo sarà un inferno, sarà bruttissimo. Lo scopo è proprio quello che questi ragazzi che stanno tanto chiusi in casa, che comunque hanno delle difficoltà, soprattutto relazionali, perché abbandonando la scuola, abbandonando il mondo sociale, hanno proprio dei vuoti, non riescono più a riagganciarsi alla vita. E noi proprio lo scopo è che pian pianino riprendano in mano la propria vita. Per chi si occupa oggi di cooperazione sociale non si tratta soltanto di provare a realizzare al meglio progetti sociali, ma di provare a immaginare nuovi modelli per finanziare quei progetti. Posso ora ascoltare tutti i pianti del mondo Senti dalla corrente di questo mare profondo E vorrei capire com'è successo Che ho rinunciato ad essere me stesso E vorrei gridare A questo cielo La verità è coperta da... Bene, grazie. E proseguo con la presentazione perché ovviamente ecco, l'idea è questa appunto di vedere oggi chi ce l'ha fatta, quali sono le sue caratteristiche, cosa possiamo imparare. Le buone pratiche ci aiutano a cambiare anche le narrative avvilenti che oggi dominano. Il mondo è fatto anche di narrative, di immagini. Abbiamo chiesto a tutti i responsabili delle buone pratiche quali sono le polisi che loro suggeriscono, in che modo le istituzioni possono aiutare le buone pratiche. Sappiamo anche che ci sono dei problemi. Ovviamente è molto interessante, ne parlavamo l'altro giorno con qualcuno di Cagliari, fare anche un libro sui fallimenti. Si impara molto dai fallimenti. Bisogna imparare a sbagliare e quindi questo è importante. Le caratteristiche più interessanti delle buone pratiche sono la loro originalità, la riproducibilità. Non tutte le buone pratiche sono riproducibili sui territori, ma su questo si lavora. E avere ovviamente dei risultati già documentati e maturati nel tempo. Non essere un progetto per il futuro, ma qualcosa che già sta in piedi bene. Alcuni esempi, non ne posso citare 400, ma tipologia. Allora, innanzitutto è venuta fuori un'Italia, io dico, a tre polmoni. C'è la manifattura di successo, di qualità, che rilocalizza, riporta in Italia le buone produzioni, ma ha bisogno di capitale e lavoro di qualità. Ha bisogno di, io dico non tanto di tuto e blu, ma di camici bianchi, che non trova. E qui c'è il grido di dolore degli industriali, 250 mila posti vacanti e alcune nostre buone pratiche. Quegli industriali che coprogettano con gli istituti tecnici professionali percorsi di formazione sui territori. Molto importanti, il secondo pilastro del Paese è il socio-sanitario. L'Unione Europea dice che il settore, e me ne sono accorto in questo viaggio, il più grande business del futuro è rispondere alla domanda di generatività dei longevi. Sarà una delle domande più importanti del futuro, e ci sono delle esperienze bellissime. Civitas Vita a Padova è un'esperienza incredibile con cui sto continuando a lavorare e a studiare. 500 dipendenti, un quartiere intero dove le generazioni si incontrano e le persone anziane non si sentono sole e vivono le loro relazioni. Le cooperative di inserimento lavoro, vedrete nel film BB, una realtà bellissima, commovente, dove le persone disagiate non sono un ostacolo alla produttività, ma sono un aiuto, una motivazione al senso del lavoro degli altri. Le realtà al servizio delle imprese artigiane, i consorsi che sanno aggregare, fare cooperazione e massimizzare le possibilità del territorio. Molto bello, ecco questo è il terzo polmone del paese, io scherzando la chiamo la Montalbano Economics. Oggi la competizione globale è fatta di territori che cercano di attrarre, che competono con altri territori, cercano di attrarre persone, visitatori. E quindi sono molto importanti quelle realtà, questa è una realtà che si chiama la Paranza di Napoli, creata da Padre Loffredo, forse la conoscete, che ha riaperto le catacombe di Napoli, ha valorizzato tutti i beni culturali di un quartiere molto difficile e che in questo quindi ha fatto quel lavoro importantissimo di valorizzare un bene comune e il territorio di cui poi tutti beneficiano, dal piccolo negoziante in poi. Gli innovatori erano gastronomici del nostro paese, e quindi l'Italia è, diciamo, veramente l'Arabia Saudita della Montalbano Economics. Arte, storia, cultura, diversità naturale sono fondamentali. Le botteghe formative, l'abbiamo detto prima, i worker buy-out, i lavoratori che si rimboccano le maniche e ricomprano, riaprono l'azienda. Pensiamo a Birrificio Comunità di Messina. La capacità della rigenerazione dei territori. I nostri territori hanno un bisogno enorme di rigenerazione. molte case abbandonate, molti luoghi, spazi abbandonati. Quindi la rigenerazione urbana è un grande tema di oggi e c'è questo bellissimo progetto Orti Collettivi con le concessioni compensative a Genova che fa un lavoro eccezionale. Gli oratori rivisti come laboratori di competenze. Oggi è fondamentale le competenze e le skills dei ragazzi. C'è un'esperienza molto bella in Trentino Alto Adige. Orti urbani non si negano a nessuno. Oggi forse una delle cose di maggior successo del territorio è il reinserimento lavoro. Il mentoring tra le persone che escono dal mondo del lavoro era un'esperienza da raccontare e da comunicare ai ragazzi. E ancora l'economia della legalità. Non posso non ricordare l'amico Vincenzo Linarello con Go e il Bio, ma anche altre esperienze, Libera ed altri. Il welfare aziendale defiscalizzato, la finanza e la banca etica. La rigenerazione dei borghi. Questo è un altro capitolo bellissimo. I nostri piccoli centri che rinascono diventando attrattivi per persone straniere che vengono a viverci. E anche luoghi di integrazione tra italiani e stranieri. C'è un atlante delle pratiche ottimali degli SPRAR molto bello. C'è il lavoro splendido che fa la comunità di Benevento, che è un lavoro sul campo, il manifesto dei sindaci dei piccoli comuni con cui continueremo a lavorare dopo Cagliari. Ma è anche un lavoro di comunicazione molto importante. Immagini, narrative diverse che si contrappongono alle narrative che già conosciamo. Ancora housing first, le politiche innovative sui senza fissa dimora, i budget di salute, i made in carcere. Quell'ultima riga ci dice che noi abbiamo un tesoro di attività che ridurrebbero in maniera incredibile la spesa pubblica. La sussidiarietà ci dice che le comunità con le loro ispirazioni possono lavorare sul territorio. Pensa al lavoro di made in carcere che riduce del 70% la recidiva dei detenuti. Siamo andati al Ministero di Grazie e Giustizia e abbiamo detto lanciamo questo progetto un po' dappertutto, risparmiate un sacco di soldi. Sapete quanto costa un detenuto per lo Stato italiano? No, ma è difficile. La burocrazia non è così semplice. Ci stiamo provando. L'altra cosa fondamentale è la grande opportunità del Paese. La rete è anche un'opportunità. È un'opportunità perché supera la necessità di contestualità spazio-temporale. Quindi ci dà la possibilità di organizzare e modulare il nostro tempo in modo diverso. Abbiamo fatto un percorso con Alessandra Smirilli, la Tedeschi, l'idea di abbiamo la possibilità veramente oggi con la tecnologia di mettere assieme i quattro momenti fondamentali della nostra vita in modo molto più integrato, molto più armonico. Il lavoro, la formazione permanente che non deve mai abbandonarci, la cura interpersonale, il tempo della cura e il tempo libero. E qui ci sono moltissime iniziative di questo tipo sulla flessibilità, lavoro e vita familiare, gli scambi di permessi e di ferie tra i lavoratori, le modularità. Il comune di Bolzano ha 100 diversi contratti di lavoro con modalità di tempo diversi a seconda delle caratteristiche delle persone che ci lavorano. Io dico una cosa, la sintesi è questa. Le imprese generative, le imprese, le buone pratiche hanno tre caratteristiche fondamentali, questo non bisogna mai dimenticarlo. Devono sapere stare sul mercato, altrimenti non sono imprese, altrimenti sono buone volontà, wishful thinking, come dicono gli inglesi. Devono avere una capacità generativa interna, l'alchimia, la qualità del lavoro interno. vedrete, guardatevi il film perché è molto bello proprio su questo. La terza cosa, devono avere una generatività esterna, una capacità di avere un impatto positivo e non solo di fare profitti. Questo è molto importante perché, purtroppo ci sono anche casi che non succedono, non funzionano, io ne cito due. C'è il fallimento virtuoso. Una delle cose più tristi e anche più difficili per noi è la sconfitta dei buoni. Dice, ma io avevo pensato alla generatività interna e esterna, però sono andato male, il mio lavoro non è andato bene. Evidentemente mancava il primo punto, il primo punto ci vuole. Ci può essere generatività interna e esterna, ma se non c'è capacità di stare sul mercato, buona idea, non funziona. E poi c'è ovviamente il successo vizioso. Ci sono imprese che hanno solo il primo punto e non hanno gli altri due, e quindi sono sul mercato. Però non bastano le buone pratiche. Ovviamente ci vogliono le polisi. E il volto che noi abbiamo visto, che vedete qui, il volto di Di Paolo Clementi, a me ha colpito moltissimo la testimonianza di ieri, ci chiede di fare qualcosa in più, di fare anche le polisi, di far partire le polisi dalle esperienze. E allora noi abbiamo pensato all'Europa. L'Europa è le politiche macroeconomiche che sono come la marea. L'alta marea può riportare su tante barche contemporaneamente. Quindi le politiche monetarie e fiscali sono fondamentali. E allora faremo un appello per l'Europa per chiedere al Presidente Tajani una banca centrale europea che guardi al lavoro, che metta l'occupazione al centro, così com'è nella Federal Reserve negli Stati Uniti. perché altrimenti cosa sarà della Banca Centrale Europea dopo Draghi che lo sta facendo. La lotta contro i paradisi fiscali interni all'Unione Europea perché la piena occupazione sarà possibile, continuerà a essere possibile anche con la tecnologia, con la nuova rivoluzione industriale, se solo la grande ricchezza maggiore che viene costruita e prodotta oggi sarà redistribuita e diventerà potere d'acquisto diffuso. Le mutualità del debito, la tassazione dei giganti digitali e una politica intelligente di investimenti. Gli investimenti pubblici e privati sono stati i grandi assenti di questi ultimi dieci anni. Sappiamo per la storia del nostro Paese che ci sono alcuni investimenti ad alto moltiplicatore, investimenti pubblici che ripagano anche per il bilancio pubblico i soldi che usano. Molto importante le ristrutturazioni edilizie, i superammortamenti, la banda larga. Ecco, nell'Istrumentum Laboris avete trovato quattro accenti per il lavoro che siamo riusciti a fare fino ad oggi che riprendono altrettanti punti del discorso del Papa. il Papa, il discorso del Papa all'Ilva di Genova ed è stato singolare che un Papa argentino abbia iniziato con una citazione di Einaudi, no? E infatti noi iniziamo anche noi da lì cioè rimuovere i lacci e le accioli. Il lavoro non si trova ma il lavoro si crea la concezione mineraria del lavoro non è che scavo e trovo il lavoro oppure me lo dà il pubblico. Il lavoro si crea e dobbiamo aiutare chi crea lavoro e in Italia abbiamo trovato tanti problemi. il primo problema il peso del sistema paese la giustizia civile tempi infiniti che impediscono agli imprenditori che sono dei costi enormi per gli imprenditori che aumentano il costo delle sofferenze bancarie la riduzione della burocrazia il tema fondamentale dell'attenzione alle piccole e medie imprese il confronto tra l'Italia e gli Stati Uniti è impietoso negli Stati Uniti gli appalti hanno corsie preferenziali per le piccole imprese esiste una small business authority che dice se una regolamentazione può essere utilizzata anche per le piccole o troppo oppressiva per loro ecco questo secondo me è un punto molto importante questo è un paese che si fonda sul lavoro delle piccole e medie imprese delle imprese artigiane ma dove le piccole imprese sono assolutamente poco rappresentate e sotto rappresentate una delle nostre proposte di policy sarà proprio sull'accesso alle fonti di finanziamento delle piccole imprese qui c'è un punto strutturale molto importante sempre il volto di ieri ci dice che c'è bisogno di fare anche qualcosa di sistemico ieri il Papa ha parlato di una bicicletta con una ruota sgonfia e ha spiegato una cosa molto vera cioè il sistema economico è costruito per il benessere dei consumatori ma noi siamo lavoratori prima che consumatori il benessere dei consumatori viene anche a scapito del benessere del lavoro perché dietro un prezzo basso non sempre ma spesso ci può essere sfruttamento del lavoro allora noi dobbiamo usare quella leva del consumo a livello pubblico a livello privato per riequilibrare il rapporto tra dignità del lavoro benessere del consumatore e interessi ovviamente degli investimenti e del profitto e per far questo abbiamo tre vie la prima via è costruire strumenti informativi nuovi di qualità per aiutare i cittadini a scegliere questo sta succedendo lo stiamo facendo in Italia con la rete Next che è una rete bellissima multi stakeholder che è anche dietro l'organizzazione delle buone pratiche che mette assieme tante realtà del nostro paese e che sta costruendo degli strumenti per aiutare i cittadini a scegliere e l'altra cosa importante l'ha detta il Papa ieri lo Stato vota col portafoglio perché il 20% degli acquisti sono acquisti pubblici allora lo Stato non può usare la legge del massimo ribasso che è una legge contraria ai suoi stessi obiettivi che sono quelli del bene comune lo sappiamo che c'è questo percorso di cambiamento oggi c'è l'offerta economica più vantaggiosa ma nonostante la recente riforma del codice degli appalti ancora il 60% degli appalti sono al massimo ribasso quindi bisogna dare un'accelerata e la terza cosa bisogna cambiare l'IVA l'IVA è l'unico strumento fiscale che noi abbiamo per cambiare i rapporti tra lavoro e consumo c'è bisogno di un'IVA differenziata che premi le filiere sostenibili ad alta dignità del lavoro e penalizzi quelle che non lo sono ancora una società fragile e difficile come quella di oggi ha bisogno di reti di protezione universale ma la nostra visione di queste reti di protezione universale non è quella del reddito di cittadinanza noi sappiamo che un reddito non dà dignità di per sé Jean Danielou padre conciliare diceva se ami qualcuno chiedegli qualcosa in cambio la dignità di una persona dipende dalla sua generatività e della sua capacità di rendersi utile agli altri quindi abbiamo bisogno di una rete di protezione un po' come il REI in cui tanti di noi alleanza per la povertà hanno lavorato e combattuto ma questa rete di protezione deve essere finalizzata non solo all'integrazione di reddito ma al reinserimento della persona nel tessuto sociale e nel lavoro e ancora l'ultimo punto è quello della cultura io dico scherzando che oggi il ministro dell'economia più importante è il ministro dei beni culturali perché questo paese è il paese che ha il più alto numero di siti dell'UNESCO sulla cultura possiamo costruire veramente tantissimo del nostro paese e qui ripeto torno alle buone pratiche il lavoro eccezionale che tanti stanno facendo sui territori per valorizzare mi viene in mente la fondazione con il sud fondazione con il sud che crea acceleratori sociali raddoppia il capitale che le reti sanno costruire sui territori quindi dice io non intuido ho un sussidio a fondo perduto ma se tu comunità del sud sei in grado di creare capitale sociale mi raccogli un capitale iniziale espressione delle reti io lo raddoppio e grazie al lavoro di fondazione con il sud che città come Ragusa Ragusa e Ibla sono state abbellite in maniera incredibile sono diventate veramente poli di attrazione culturali torniamo e andiamo verso la conclusione quindi qual è il nostro percorso questi sono i verbi del nostro percorso partecipare, informare, disseminare le buone pratiche valutarne l'impatto molto importante capire qual è l'impatto innovare e quindi il percorso non si ferma qui c'è un passato lo abbiamo raccontato molti dei cerchiettori di lavoro sono qui in platea quindi questo lavoro l'abbiamo costruito insieme c'è un oggi il lavoro dei gruppi che andremo a fare proprio adesso dove siamo chiamati ad estrarre un po' quelle che sono alcune linee guida delle buone pratiche e alcuni consigli di policy che si aggiungeranno a quelli che abbiamo pensato come comitato promotore ma il lavoro continuerà vogliamo continuare e la logica è proprio quella che leggevamo nell'ultima parte del video il futuro che vogliamo supera rancori e populismi diffonde le buone pratiche le fa conoscere prende spunto da esse genera innovazione crea un movimento positivo che partecipa e innova che impara e condivide molto importante i social media abbiamo fatto non possiamo solo fare qualcosa ma dobbiamo anche comunicarla oggi abbiamo questo dovere io uso la metafora dello stadio oggi i social diciamo fino a un po' di tempo fa perché abbiamo fatto dei progressi enormi vedo che siamo molto bravi siamo diventati molto bravi e i social erano come degli stadi dove c'erano solo dei piccoli gruppi di fascino rosi che facevano il bello e il cattivo tempo e quindi la loro voce rimbombava e quegli stadi sono gli stadi dove si crea il consenso oggi dove si vincono le elezioni ecco noi abbiamo il dovere di starci di starci nel nostro modo che è un modo diverso è un modo dove si informa si condivide ci si chiama raccolta e si diffondono le buone pratiche la diffusione delle settimane sociali dal punto di vista della comunicazione è molto molto bella poi Gabriella e persone dei media sanno aiutarci in questo lavoro quindi ripeto qui c'è una citazione di Mauro lui dice sempre che la crisi del 2007 è stata il momento dell'infarto del sistema ecco noi abbiamo rimesso in modo vogliamo rimettere in modo la circolazione sanguigna del paese come? pensate veramente a tre movimenti questo sangue che va nell'estremità quindi andare a cercare le buone pratiche sul territorio che ritorna poi raccoglie queste buone pratiche e crea dei momenti di laboratorio di animazione territoriale dove si cerca di vedere se quelle cose si possono realizzare anche su altri territori si prende coscienza dei problemi dei diversi luoghi c'è un progetto molto bello con Acli che stiamo provando a far partire e alla fine da lì dall'informazione nascono le proposte per l'Italia e per l'Europa ecco questa è l'idea della circolazione sanguigna ed è un patrimonio che noi offriamo al paese alle istituzioni non ci mettiamo una alcuni di noi se ne metteranno pure le magliette ma come movimento non ci mettiamo la maglietta e lavoriamo per tutti lavoriamo per le istituzioni lavoriamo per i politici di cui capiamo la fatica e lo sforzo perché oggi fare politica lo diceva Bauman è una cosa terribile dice io non diciamo non invidio i politici che sono chiamati a fare il massimo ma si trono anche con moltissimi vincoli ecco quindi adesso io passo idealmente il testimone ai nostri tavoli il tempo purtroppo non è tanto ma è difficile lavorare insieme in simultaneità in mille persone ma abbiamo veramente questa idea che in realtà questa è una tappa intermedia di consapevolezza di incontro faccia a faccia che ha un passato e che ha un futuro qual è la logica che ci ispira mi piace sempre concludere con questa frase sono partito dalla generatività nella mia vision e finisco con la generatività è la frase per me più bella di Papa Francesco Evangelii Gaudium è un'idea bellissima del magis nell'azione sociale e politica dobbiamo amare il tempo più che lo spazio e vuol dire dobbiamo capire che più che occupare spazi dobbiamo mettere in moto dei processi privilegiare delle azioni che generano nuovi dinamismi nella società e convolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti il lasciare andare l'ultimo verbo della generatività finché fruttifichino gli importanti avvenimenti storici senza ansietà però con convinzione chiara e tenace allora buon lavoro ai gruppi grazie 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 grazie